buongiorno a tutti e bentornati ad assaggi di psicologia per trattare un nuovo argomento che può aderciare tutti coloro che stanno valutando se iniziare o meno un percorso di psicoterapia molti si chiederanno che vantaggio ci possa essere a parlare col cosiddetto perfetto estraneo e quello avessero tra le proprie conoscenze uno psicologo potrebbero sviluppare la fantasia di poter intraprendere un percorso terapeutico proprio con l'amico in questione questo dilemma si presenta spesso e qualsiasi mio collega potrebbe testimoniare di frequenti richieste che sopraggiungono da amici e parenti desiderosi di affrontare le proprie fragilità più delicate affidandosi a qualcuno che già li conosce magari già partecipa in prima persona alle vicende personali oggetto di valutazione parliamone senza entrare nel merito di una trattazione degli articoli del codice deontologico che vietano la presa in carico di congiunti o persone con le quali esista una frequentazione o un conflitto di interessi cerchiamo di approfondire le motivazioni in modo semplice e chiarificatore di questa regola una psicoterapia non è una lezione non è un corso anche se a tanti tratti possono esserci momenti di stampo psicoeducativo informativo momenti di approfondimento sulle conoscenze del paziente sul funzionamento della mente delle relazioni della comunicazione una psicoterapia è un percorso un cammino nel sentiero della vita del paziente in cui lui stesso conduce terapeuta che si fa sostenitore e osservatore attento una psicoterapia però innanzitutto una relazione con quel terapeuta capace di supportare la manifestazione delle modalità relazionale di quel paziente e lavorare con lui sulla comprensione di queste modalità e sulla modificazione di di esse in vivo in essere concretamente mentre accadono dunque capirete quanto sia importante che questa relazione si costruisca dal nuovo in quella situazione e con un obiettivo specifico che non può comprendere quelli di altri tipi di relazione con valenza affettiva diversa relazioni familiari lavorativo amicali la relazione terapeutica nasce e si estingue con l'obiettivo della psicoterapia non solo in terapia il paziente deve sentirsi libero di esprimere ogni pensiero paura bisogno senza preoccuparsi del giudizio dell'altro cosa non facile e che richiede anche una situazione pulita di relazione terapeutica del tempo e un numero variabile di sessioni nelle quali ci sarà man mano la possibilità di affrontare le relative difficoltà provate a pensare di raccontare una serie di pensieri emozioni e desideri che voi stessi non riuscite ad accettare o di cui avete timore o di vergognate ad una persona con la quale avete instaurato una relazione significativa e desiderate mantenerla nel tempo non sarebbe facile non solo il terapeuta riesce a fare bene il suo lavoro proprio grazie alla sua posizione esterna estranea senza coinvolgimenti personali questo gli consente di dire chiedere e mostrare aspetti del percorso con una certa libertà senza dover pensare alle conseguenze su tutto il sistema ma concentrandosi sulle conseguenze importanti per quel paziente poi in realtà le conseguenze sul sistema di vita del paziente sono considerate come ma con l'obiettivo di sostenere il paziente di offrirgli tutte le opportunità alternative possibili al terapeuta non serve sapere la verità tutta la verità la verità assoluta e verissima sui fatti che il paziente racconta ciò che serve a noi terapeuti nella maggior parte delle volte la verità relativa del soggetto ciò che lui racconta come lo racconta come lo vede e come lo ha vissuto nel suo mondo su questo lavoriamo noi terapeuti e con questo rispondo al dubbio frequente che alcuni conoscenti del paziente hanno circa la veridicità del racconto del paziente appunto per influenzare il percorso il percorso terapeutico si basa su altri aspetti molto più complessi e trasformativi che hanno a che fare soprattutto con i significati personali del soggetto anche questo della verità è uno dei buoni motivi per considerare una buona regola quella per cui il terapeuta non debba essere un amico o un parente nel senso comune si pensa spesso che le persone che fanno il mestiere dello psicologo se ne vadano in giro nella loro vita personale ad analizzare chiunque il lavoro che facciamo richiede un determinato setting l'applicazione di un metodo preciso l'uso di tecniche insieme a tutto ciò che può essere poi il bagaglio teorico che il professionista ha acquisito nella sua formazione e anche nell'esperienza è un po come pensare che il dentista vada in giro ad esaminare le bocca trui mentre fa la spesa certo la deformazione professionale potrebbe acutizzare la sua osservazione di un sorriso più o meno in ordine ma non si sentirà in dovere di aprire la bocca dello sconosciuto per fare una diagnosi e nemmeno estrarrà dalla tasca gli attrezzi del mestiere per intervenire su un disturbo orale che ha notato idem lo psicologo il terapeuta non deve essere un amico anche perché tra amici si scambiano confidenze ci si sorregge il rapporto è tendenzialmente simmetrico e paritario mentre in psicoterapia uno si pone a disposizione dell'altro uno si occupa della storia dell'altro uno ascolta e valuta il racconto dell'altro per dare all'altro una chiave di lettura sostenerlo nel cambiamento desiderato tra amici non c'è uno schema così rigoroso si scambia si condivide in maniera paritaria e reciproca in terapia possono essere usate tecniche che prevedono delle aperture su aneddoti personali dello psicologo accuratamente selezionati e rielaborati con un preciso obiettivo terapeutico e non per il gusto del professionista di parlare di se stesso o cercare supporto dall'altro l'obiettivo è sempre il cambiamento del paziente tra amici va da sé che la confidenza di uno porti spontaneamente le licitazioni di ricordi e racconti dell'altro ma non con un obiettivo terapeutico e trasformativo sull'altro poi ci sono questioni di ordine etico molto importanti anche rispetto alle relazioni tra tutte le persone coinvolte che rischiano di compromettere il percorso di cambiamento o che possono essere messe in scacco proprio dall'eventuale cambiamento pensate ad una crisi di coppia in cui il terapeuta si trova a lavorare con uno dei due membri giungendo magari ad una separazione tra le due persone se il terapeuta fosse un amico di famiglia questo comporterebbe grosse difficoltà ed imbarazzi che ne dite bene spero seppur brevemente di avervi aiutato a considerare la questione in un nuovo modo e anche in maniera utile per oggi è tutto vi auguro una buona settimana e a presto ciao